Ciao, questo è un po' un esperimento oggi, ciao capo, da sola non parlo, lo sai. Tra l'altro ho il telefono nuovo, è da ieri che ci sto smanettando, mi sono ritrovata a essere tecnologica di brutto senza neanche rendermene conto, penso. Fantastico, quindi ora ti possiamo buttare i messaggi. Sì, penso che abbia più memoria questo qui dell'altro. Fantastico, ascolta, ma secondo te possiamo inserire ancora altre persone o possiamo farla solo in due? Secondo me le dirette si possono fare solo in due. Quindi facciamo sessioni da due a due. Secondo me sì, così le facciamo anche nei nostri profili. Tu sei stato il mio via. Direi che sono stata il via di parecchia gente io comunque, si vede che ho la faccia abbastanza... Però vabbè non mi piace così, aspetta che cambio... Vabbè tanto questo è il velo della diretta. Siccome mi vergogno parecchio a fare le dirette, lo sai che inizio a guardare qua e là il video e non guardare davanti. Sì, ho detto vediamo se ho il mio supporto quotidiano. Però oggi mi sono preparata a chiedere a fare le mani. Quello di cui tu parli praticamente sempre. Quasi e solo di quello. Mi continuano a chiedere anche come dimagrisco, come sto continuando e non sto facendo altro che bere l'aloe. Eh, ne avrà di principi buoni quell'aloe lì. No? Tantissimi. Tantissimi. Eh. Intanto è buono. Facciamo il mito che l'aloe da bere fa schifo. Perché poi io ce l'alluva. Lo abbiamo anche mele hacai. E quello mele hacai sa veramente di mela tra l'altro. Poi è puro al 99,5% ed è senza aloina. L'aloina è un filamento giallognolo, che io non sapevo se non andavo a leggere su Google. Che rende l'aloe amarostico ed impuro perché la parte è un po' più esterna. Noi abbiamo solo il gel qua dentro. Lavorato in maniera egregia. E non è gelatinoso. Per niente. Ah. Perché poi ho detto così che... La prossima volta mi preparo il bicchierino così ve lo faccio vedere direttamente. Ah bene. Perché io sono entrata in modalità ubriacone e vado a sorsi. Ah. Non si fa, si bevono 50 ml al giorno. Bisognerebbe avere il misurino e berlo correttamente. Cioè si può arrivare fino a 90 ml, però la dose consigliata è 50. Che cosa fa l'aloe? Cosa fa l'aloe? Ti interrogo. Ma di te oggi? Cosa fa l'aloe? Fa di tutto. Purifica l'intestino. Esatto. E aiuta a stimolare la digestione. Io da quando lo bevo non ho più avuto problemi di digestione. Questo ho sperimentato su di me. Drenna. Il drenaggio? Come si può dire? No, è brutto il drenaggio. Sì, drena. 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 Io soffrivo di ritenzione idrica alta. Dove ce l'ho io? La ritenzione idrica non te lo posso far vedere. No, ma baci di aloe, oltre che di crema al colostro. Poi parliamo anche delle creme al colostro. Adesso era mirata all'aloe oggi. Se cura l'organismo. Esatto. E regola i livelli di zucchero nel sangue. La domanda che mi fanno spesso è chi al di avete può berlo? Perché nel nostro non ci sono aggiunti zuccheri artificiali, coloranti e sostanze varie. Regola i livelli di zucchero nel sangue. Perché Andrea te la ridi? Benissimo. Allora, Diana dice stupendi. Andrea Liberti se la ride, perché sa benissimo quanto io sia imbranata e impacciata davanti a una telecamera. Io non voglio fare mai le dirette, però prima o poi bisognava iniziare in qualche modo. Beh, è uno smacco questo. Caro Andrea, anche se non ti conosco, è uno smacco. Quindi, mentre quello, torno seria, mentre quello mele hacai è più indicato per il colesterolo. Quindi, non c'è niente per cui l'aloe non vada bene. Il colesterolo tra l'altro va a ruba. Nel senso che c'è un sacco di gente che ha il colesterolo. E non solo G, ma voglio dire... Ma mia sorella, vabbè, aveva il cane che stava male. Ha fatto gli esami del cane, degli esami del sangue al cane. Ha il colesterolo alto, te lo giuro. Gli diamo l'aloe. Anche i cani hanno il colesterolo alto. Aiuto, ogni tempo si blocca. Ah, no, qualcuno ha detto... Comunque, vi do una notizia in diretta che è drammatica. Per te che sai... Leo, oggi mi ha rotto il profumo. One million? Non mi sorrini. No, 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 non il one million. Ha rotto il mio. Ah, quello che avevi nella borsetta l'altra mattina? Sì. Meno male che ne ho comprati tre, perché mi viene da piangere. Andrea dice che siamo brave. No, mio figlio, no, vabbè, è grande. Se mi rompe il profumo, deve iniziare quello che dico io, la maratona. Ieri abbiamo fatto un video in diretta nel gruppo di Deborah e in diretta Deborah ha regalato il profumo a suo figlio, il profumo per se stessa. E poi abbiamo parlato di un altro profumo che secondo lei ha un effetto... Non siamo in fascia protetta, vero? Siamo perennemi in fascia protetta. Però siamo adulti, dai. Le parte l'ormone. A me succede con il one million. Tra l'altro, vabbè, lo diciamo, è savage. L'M025. Brava. Vedi che ti amo. Finalmente iniziamo a dare i numeri. Perché io dico one million, ma parlavo solo di M008. È identico, è buonissimo. È proprio buono, è identico. Perché c'è un... Tra l'altro dove vado a fare le lampade io, facendo eccepi così, c'è sto ragazzo che è lì seduto, che io lo sento dalle scale che c'è lui, perché ha quel profumo lì. E io inizio come cani. Ora ho capito. Ora ho capito perché continui a fare le lampade, però. Tra l'altro è un gran bel ragazzo, diciamo, no? Però lo sento poi, l'avevamo capito. Tipo cane da tartufo, no? Sono lì qui. Comunque per chi volesse provarlo, savage di Dior, che è l'M025, è buonissimo. Tra l'altro l'originale io sono andata un giorno in profumeria per comprarmelo, o gli davo un rene, no, quello tienitelo caro, io ti aiuto a depurarlo, il rene. Sì, sì. No, quindi voglio dire, se qualcuno per Natale volesse fare qualche regalino... ecco, il motivo per cui stiamo facendo anche questa videochiamata, questa diretta in due, è perché secondo me molte persone che sono poi per assurdo le amicizie reali, quindi quelle che sono nel mio profilo, sto facendo una diretta... di solito lavoro da un profilo che si chiama Mari Chiarenza, quindi se volete chiedermi le amicizie anche là, di solito ormai uso solo quello. Oggi invece sono nel mio profilo normale, così tutti quelli che mi conoscono nella realtà, ora vedono cosa sto facendo. Sono passata dal vendere libri all'abbigliamento da bambini a proporre prodotti naturali. La loi. Ho fatto un salto. Gli integratori. Sono innamorata di questi prodotti. Non l'avresti mai detto nella tua vita che avresti venduto integratori. No, no, glielo raccontavo a Deborah l'altro giorno che eravamo al bar, io sono sempre stata molto 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 lontana da qualsiasi cosa che sia farmaco, integratore, perché proprio non mi piace. Però l'aloe invece è una cosa che ho sempre bevuto, comprata in farmacia, piuttosto che comprata in altre aziende di network marketing, e puntualmente lo bevevo per 3-4 giorni, e poi mi finiva nel dimenticatoio del frigo, fino a che mi sono registrata in Essence, per quel giorno, guarda, 20 aprile, mi sono registrata in Essence, e dico, ma guarda che io non farò niente, non venderò, non comprerò, cioè no, comprerò sì per me, non sponsorizzerò mai un'azienda. Poi ho detto, ma sì va, l'aloe ero curiosa di berlo, me lo sono comprata, ragazzi, cioè, io sono 5 mesi e mezzo che vado avanti ad aloe, e l'ho saltato per 4 giorni ed ero già in crisi, perché quando lo bevete ve ne rendete conto, cioè ho iniziato a digerire, a star bene, ho un botto di energia, i miei amici lo sanno, ho 4 figli, ho veramente... Eh, Turinio! Anche, però sto bene! E l'unica... E la gente non c'è... Tra l'altro, così ve lo dico e smettete di chiedermelo quando mi incontrate per strada, mi chiedono, ma mangi? Cavolo se mangio! Ieri sera pizza, oggi a pranzo pasta, non sto facendo dieta per niente, io ho fatto la detox nostra, che sono compresse, ecco perché parlavamo degli integratori, che ho sempre detto mai, la cosa bella degli integratori nostri, è che non sono, poi abbiamo anche il prodotto dimagrante, ma non sono prodotti dimagranti, lo so che ci siete te Pamela, ma non so come inserirvi! Allora sai cosa faccio? Esco io così e riesci a mettere loro! Ok? Proviamo a... Esco io... Pamela ti provo di invitare! Ok, ciao Ade! Vediamo se si allunga, comunque nel frattempo vi continuo a parlare di questa detox, nella detox di Essence ci sono dei prodotti che si chiama, allora il flauen che va preso per tre mesi, sono pastiglie che aiutano a pulire tutto il sistema nostro, suとか si chiama, su dicono come state per tre mesi, su 귀 andere... sui grazie a te che ragazzi di vivere, su aiuto sul si chiama,